Una nuova proposta culturale in città, un festival addirittura che parte da questo sabato, che cosa ci racconta? Ma sì, una nuova iniziativa culturale che l'amministrazione ha voluto sostenere e sposare con il patrocino e un contributo perché crediamo che la città abbia ancora moltissimo spazio per iniziative culturali legate alla musica quando alla base c'è un'idea nuova, in questo caso un grandissimo investimento su talenti artistici a 360 gradi, molto giovani e appunto un progetto innovativo che riesce a coniugare le nuove generazioni con una qualità artistica assoluta. Cinque appuntamenti che noi davvero auspichiamo diventino un punto fisso del nostro calendario culturale a disposizione di tutti i veronesi ma perché no anche di chi visita la nostra città. L'Undiscover Music Festival è un festival di musica da camera che tratterà il repertorio del Novecento dove all'interno verranno organizzati anche appunto un aperitivo finale e ci saranno presenti delle installazioni artistiche donate dalla Fondazione Brescia Eventi. Vi aspetto il 26 ottobre all'anteprima presso Palazzo dei Motilati.